Mi chiamo Schiavone Antonio, sono un intagliatore, intaglio e faccio la fiera da circa 30 anni, i pezzi di solito me li faccio tutti io e niente, poi combinazione, chiacchierando con buonanima Carlo Gians mi fa, te ti vedo molto adatto a insegnare intaglio, vuoi fare dei corsi serali per la regione? E gli ho detto di sì e quindi per 25 anni ho insegnato intaglio in vari comuni qui nella valle chiaramente. Questa opera qui è stata un'opera che ho voluto fare per regalarglielo mio nipotino, che insomma gli piace la scacchiera, gli piacciono gli scacci, queste cose e quindi adesso questa qui a tempo perso mi sono messo lì e gliel'ho preparata, ne facevo già altre prima, però adesso questa è stata un po' una cosa un po' particolare insomma, ricordo che là c'erò i miei nipoti chiaramente. Adesso perché ho capito io non c'è più neanche corsi in valle che fanno corsi in taglio, non so se è rimasto quello di San Piscopo che non lo so neanche bene, però guardi che io ho avuto un allievo bravissimo in tagliare, no? Però non aveva le capacità di insegnare, cioè il discorso lui era bravissimo in tagliare, aveva anche fantasia e tutto, però nell'insegnamento non sapeva non sapeva un po' organizzare insomma quello che era il corso, capisce? Perché qui all'inizio del corso si parte già con un disegno geometrico, no? Si parte già da quello, poi andando avanti quando sai fare i disegni idiomerici, quelle cose lì, allora lì cominci a buttare poi poi la fantasia, no? Devi prenderti un pezzo cominciare a disegnarlo, ma non è che vai a guardare qualcos'altro, deve essere tutto di fantasia quello che fai che è un'esercizio. Che è un'esercizio. Che è un'esercizio.